I tesori artistici dell'Emilia Romagna a due anni dal sisma, questo è il tema della mostra multimediale ospitata alla triennale di Milano per raccontare i danni del terremoto ma anche il lavoro di recupero tuttora in corso. Il progetto che si chiama Terreferme Emilia 2012, il patrimonio culturale oltre il sisma, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Telecom ed è aperto al pubblico fino al 20 luglio.